Capita spesso di entrare in uffici istituzionali dove magari uno c'è poco lavoro e uno si stende, si mette sul tavolo e si mette a dormire, a riposare, è sbagliata una posizione? No, 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 esiste una posizione particolare che qui adesso non possiamo... E questa è anche una piccola frecciatina alla pubblica amministrazione. No, no, perché in realtà, vuole usato dire che esiste una posizione particolare che può essere assunta, cioè si mettono le braccia a concerto e poggiare il capo in mezzo alle braccia e in questo modo si detendono un pochino i muscoli paravertebrali che spesso sono causa di dolore lombare. Ecco, questo è un momento all'inizio... Questo ovviamente se proprio non si può fare a meno, però non si dorme al lavoro, insomma. Certo, bastano pochissimi minuti nella pausa prevista, chiaramente. Andiamo a cattivare, nella pausa, chiaramente. Prende a chi sta al computer dopo 4 ore magari si può riposare 15 minuti in questo modo, perfetto, c'è la pausa. Perfetto, invece un'altra cosa, il computer invece? Per quanto riguarda l'uso del computer, dicevo prima, è molto importante regolare bene il monitor, mettersi bene al di sotto del tavolo, che deve essere la giusta regolazione, poggiare bene i gomiti su questa sedia, che deve avere appunto l'appoggio a braccio, che deve essere anche arrivabile in altezza, e poi poggiare anche i polsi sulla tastiera. In questo modo, diciamo che chiaramente si previene molto bene lo stress dei muscoli, diciamo, non soltanto lombosacrali, ma anche cervicali. Ricordo che la buona poltrona è una poltrona che ha anche un buon supporto lombare, che deve essere robusto, non deve essere una poltrona che dà la sensazione di una certa precarietà. La poltrona di buona qualità, chiaramente, si riconosce subito, anche dal costo, oltretutto. Perciò diciamo un'altra ultima cosa, perché praticamente siamo quasi in chiusura, poi abbiamo lasciato la linea a Valeria Arnaldi, chiaramente, che con la sua agenda dello spettacolo, che non è andata a metà trasmissione proprio per motivi di tempo, proprio di scaletta, però chiuderà appunto questa puntata radio dei VIP. Praticamente, tra l'altro Valeria è una che va sempre con i tacchi alti. No, scherzavo, lei non usa mai, difficilmente usa tacchi. Una volta sì, però, li usava, una volta li usava, Valeria Arnaldi, i tacchi alti, poi a un certo punto ha smesso, ha cambiato look. Però, diciamo, questo si dice spesso che i tacchi alti fanno male. Non è proprio vero questo fatto, a seconda delle situazioni, vero dottore? Esatto, come abbiamo visto dall'inizio della trasmissione, ogni caso è assene. Nel senso che un soggetto che ha un rachide lombosacrale, che ha perso la sua normale lordosi... Questo è importante per le donne, chiaramente, perché tanti... devono appunto mettere i tacchi che hanno un tacco un po' più alto del normale. Invece delle donne che hanno una, diciamo, una notevole per lordosi, devono appunto portare i tacchi che sono piuttosto bassi. Insomma, in altri termini, maggiore è il tacco, maggiore è la curvatura, la lordosi lombosacrale. Quindi deve essere modulato in rapporto a questa caratteristica fisica di ciascun soggetto. Perciò anche i tacchi sono a seconda del... bisogna fare una scelta, una valutazione soggettiva, chiaramente non di gruppo, non di massa. Non generica, sì. Bene, a questo punto siamo in chiusura. Io ringrazio il dottor Finucci, appunto, ricordo, appunto, fisiatra presso il centro paraplegici di Ostia per questa bellissima trasmissione, questi consigli per l'uso dati appunto al nostro... al pubblico della radio dei VIP. Ringrazio, appunto, le loro vallone per l'intervento, appunto, in trasmissione. La dottoressa Tiziana Manenti, ricordiamo che è medico e insegnante di danza del ventre. E poi, naturalmente, ringrazio anche, saluto Max Giurastante in capire di regia, a tutti voi. E la linea passa a questo punto. Noi ci vediamo, a proposito, questo è un appuntamento molto importante, la prossima settimana non saremo in onda dalle ore 16 alle 18, ma sicuramente dalle ore 20 e seguiremo a oltranza, fino alla fine della Kermesse, appunto, seguiremo, appunto, il Festival di Sanremo. Perciò, speciale Sanremo alla prossima settimana dalle ore 20. Mi raccomando, sinorizzatevi sempre su Radio Roma 103.9. Adesso la linea passa a Valerio Arnaldi per l'agenda dello spettacolo. Ciao, a sabato prossimo. Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma Radio Roma